Buonasera a tutti. Funziona bene? Ottimo. Allora, buonasera a tutti, sono Sara Ricciardi, sono una designer. Progetto, ho uno studio a Milano, progetto solitamente oggetti, installazioni, interni, spazi e poi ad un certo punto della mia carriera ho avuto la fortuna di incontrare il social design, che cambia totalmente il paradigma. Il social design non funziona più come qualcosa che nasce da una affascinazione personale, no? Quando si va a progettare con materiali nel prodotto, si parte sempre da quelle che definiamo anche delle ricerche, delle intuizioni che si fanno anche da una scrivania. Invece il social design ti invita ad uscire fuori e a mappare delle esigenze esterne, ad entrare in contatto con quelle che sono le persone, i contesti, sempre variabili, in continua trasformazione. e quindi in questi casi io amo definirmi un attivatore sociale. Un attivatore sociale è colui che cerca di facilitare delle dinamiche che ci sono al suo esterno. Vorrei partire appunto parlandovi di quello che è anche il mio percorso pedagogico, che ogni giorno esploro, perché lavorare con gli studenti è alimentarsi continuamente, continua ricerca. E con loro tento di applicare un metodo, che oggi ho piacere un po' a mostrarvi. Una delle prime parole che introducono i corsi è agire. Cioè ragazzi dovete agire, dovete fare. Hanno tutti molta paura. All'inizio hai delle persone trattenute perché hanno paura di commettere un errore, un errore che poi non si sa come gestire. Io invece dico agite, fate, esplorate, sbagliate. E quindi una volta feci questo esperimento, diedi a loro questo foglio azzurro e gli disse guardatelo, questo foglio azzurro piatto sul vostro banco. Allora ora provate a fare un'azione. Cosa succede? Allora tutti, un po' anche chi timidamente, chi meno, iniziarono a fare proprio un atto, un atto sul foglio. E quell'atto è capace di generare altre forme. Forme che erano tutte totalmente diverse l'una dall'altra. Io queste le amo definire delle onde, no? Allora le onde si generano un po' come il vento che arriva a generare queste onde sulla superficie. È interessante capire come ognuno di noi può generare tramite un atto personale delle onde. Allora un'altra cosa importantissima è il caos. Non so, vi ricordate la frase? In principio era il caos. Che è il luogo dove tutto nasce. Non dobbiamo essere spaventati da entrare in questi deliri di informazioni e possibilità. Questa cosa ci deve, dobbiamo abbandonarci a questi contesti con delle particolari situazioni umorali. La prima è la fiducia. Perché non essere fiduciosi in qualcosa? Se affrontiamo qualcosa con una certa fiducia, allora le dinamiche davanti a noi possono iniziare ad essere fibrillanti in maniera positiva. Questa cosa si ottiene anche divertendoci. Perché un'altra cosa che tra l'altro mi sorprende molto negli studenti è che li vedo sempre afflitti da chissà quale. Divertitevi, divertitevi, fate divertendovi. Perché è importante coltivare questa forza, questa carica per esplorare. Quindi il caos generativo lo chiamo. Diciamo che io amo andare nei contesti che hanno questo pululare di elementi e mi piace che le persone riescano a, in queste potenzialità che ci sono, perché le potenzialità anche in questa sala sarebbero infinite, però bisogna selezionare. Quindi una delle prime cose nell'agire è selezionare, quindi aggrapparsi a degli oggetti, dei punti e farli propri per una narrativa personale. Perché tutti noi quando facciamo le cose raccontiamo una storia, una storia che è sempre personale, perché dipende dalle nostre capacità, le nostre esperienze e ciò che riusciamo a raccogliere in quel momento dall'ambiente esterno. Allora, io vi porto un po' in giro in quelli che sono stati dei workshop che hanno segnato delle parole chiave per il mio percorso di software designer. Questo è l'istituto di igiene mentale di Berlino dove ci hanno chiamato, eravamo io e Wei Wei, la mia collega cinese, in cui ci chiesero, lì i pazienti vanno tutti i giorni per lavorare e percepire uno stipendio. Solitamente fanno azioni ripetitive, metti le perline, infila le perline, fanno azioni che possano sedare degli ipotetici animi troppo emotivi. E ci chiesero però di fare un laboratorio, come volevamo, all'interno del centro di ceramica. Allora, applicamo questo approccio. Gli strumenti che si potevano utilizzare erano completamente improbabili. Quindi avevamo pennelli, il progetto si chiama The Pancake Project, proprio perché si affida a una sorta di come una sperimentazione in cucina, felice, divertente, in cui ognuno dei nostri partecipanti al workshop poteva approcciare in maniera un po' irriverente a quello che era fare dei piatti da commercializzare in Germania. Qui si attiva tutta una parte di gesto, di essere, di queste persone che iniziano anche a trovare un divertimento nel lavorare all'interno del laboratorio. Ognuno sviluppa quello che è il proprio tratto nella creazione di questi piatti. E lui è Detlef. Vi porto lui come esempio perché lui è praticamente paralizzato su questa sedia motorizzata, di cui andava fierissimo, e con questa sedia lui poteva fare svariati movimenti di posizionamento del corpo, pur essendolo immobile. Aveva prescelto come suo strumento, erano dei fili tipo dei lacci, che lui intingeva col suo sistema motorizzato della sedia a rotelle, all'interno di un recipiente di colore e li disponeva poi sui piatti, sempre con questa sua tecnica che aveva sviluppato. Il limite diventa un segno. Ognuno di loro, perché ognuno di noi ha determinati limiti fisici, che sono in realtà però possibilità di segno, e quindi momenti che raccontano qualcosa di autentico e personale. E questi per esempio, tutta quella che è poi la collezione di Detlef, in cui vedete i suoi segni distintivi, o quelli di Alina, o quelli di Merz, che era più uno scoppio. L'atto creativo conferisce valore e dà anche la possibilità di affezionarsi di più al contesto, perché se iniziamo a capire che tutto quello che ci circonda è fatto in un determinato modo, c'è una storia, allora iniziamo ad affezionarci allo spazio che abbiamo attorno. Allora questo diventa un momento molto importante di riscoperta del valore personale e altrui. E dà un'autorialità, una firma, perché bisogna essere capaci di firmare le proprie vite. In questo altro contesto, al Manop, mi chiamano, quartiere popolare, 500 famiglie, periferia di Milano, e fate qualcosa. Io e i miei studenti arriviamo in questo luogo molto particolare, liti veramente pittoresche, però quello che faccio sempre è buttare i miei studenti in questa sorta di rapporto immediato con le persone. Andate. Ognuno ha voglia di relazionarsi all'altro, però c'è bisogno di agire, c'è bisogno di entrare nella scena con propulsione, nessuno ti rifiuterà se non piccole cose all'inizio. Quindi inizieranno a raccontarsi, inizieranno a portarci le moche del caffè, inizieranno a creare situazioni conviviali e dinamiche di grande forza e grande potenza. Stare insieme significa anche far sì che appaiano dei contrasti, ma i contrasti sono fondamentali nella progettazione. Non è sempre idilliaco, c'è bisogno di gestire la complessità. Quello che dico è che nel momento che si crea una crisi bisogna capire come, con tutto il nostro corpo, porci e saperla gestire. Quindi si attivano dei team di lavoro e facciamo sempre dei cantieri aperti in maniera tale che gli altri possano sempre, sapete quelli che passano con le mani indietro? Quelli lì devono essere con noi, devono progettare, stare con noi e chi non può brindare con noi, quantomeno. E quindi poi abbiamo creato Orcipelago Urbano, che era queste isole mobili in cui le persone con delle luci, un cinema, potevamo essere lì e stare insieme, creare un momento di festa. Questa è una delle feste finali perché la celebrazione di un momento è sempre molto importante, si eliminano dei gap anche generazionali dello stare insieme. Io ormai sono tutti balli di gruppo possibili, inimmaginabili e questo è un momento che io ho molto piacere a condividere con voi perché ballavo all'interno della festa di questo momento finale. Sotto c'erano i rapper di quartiere che ci davano la musica e ci fu un momento molto bello in cui una signora venne da me e disse Sara, che bello, c'è tutta questa energia, questa bellezza di stare insieme e ti ringrazio per mia sorella. La sorella mi indicava la persona che stava ballando con me come una pazza sudatissima e io diceva, ma donna, sua sorella balla benissimo. E lei mi disse, sì cara, ma lei è sordomuta dalla nascita. Lei non sentiva una delle note che io in realtà stavo ballando con tanto amore. Ma cosa succedeva in quel momento? Che la cosa che mi colpì moltissimo si creò, quello che io definisco un rapporto di osmosi energetica. Se voi date in quell'azione ricevete quello che state dando. E lei si fidava, seguiva quei miei movimenti per sentire la musica. E quindi andiamo a ballare con i sordomuti, corriamo perché non può correre, andiamo a vedere i tramonti con persone ipovedenti. Perché prima non pensavo bene a questa cosa. E quindi in questo, questo è un momento, in una scuola di Taiwan, mi ricordo arrivai in questa platea di ragazzi delle scuole elementari e disse, ragazzi facciamo due gruppi. I bambini si disposero dal più basso al più alto in due file maschi-femmine con un rigore e una precisione notevoli. E capì che il mio workshop lì, perché poi sono sempre cose immediate, due giorni. Allora ragazzi, mi sa che faremo una parata per esplorare il corpo e fargli produrre della musica attivandolo con degli strumenti musicali che faremo con materiali di riciclo. E questo è un po' un momento in cui iniziamo a capire che, perché l'apprendimento, signore, è importante che passi dal corpo. Questo è il nostro canale recettivo principale. Cioè le cose passano da qua, non arrivano da altre parti. Ed era importante capire che quei bambini che avevo visto molto spaventati all'inizio nel confrontarsi dovevano riattivarsi per entrare un po' in gioco. O questo è un altro momento, una delle due a 83 anni, vorrei dirvi. E un altro momento in una periferia in cui andiamo a relazionarci con gli anziani, perché non si progetta mai per qualcuno con cui non si vive. Cioè bisogna capirne le necessità reali. E la signora, per esempio, ci ha dato una grande lezione di vita in cui faceva capire che i sentimenti non invecchiano. Possono invecchiare i nostri corpi, ma i nostri sentimenti no. Ed è importante tenere attiva tutta questa parte che noi abbiamo e non ce ne dobbiamo dimenticare. Siamo vivi. E i miei studenti, uno dei più grandi caschè mai visti nella storia dell'umanità, devono approcciare a questo rapporto immediato con le persone. Quindi i grandi nemici di questo lavoro sono l'abbandono e l'ignavia, quel pantano in cui certe volte ci troviamo, che ci rende fatiscenti e squallidi. Invece, questo è un progetto, per esempio, che sono stata da poco per un festival bellissimo a Camerino, che è una città che è crollata durante il terremoto di un anno e mezzo fa. E per cui ci siamo ritrovati a vivere con gli studenti nei container, luoghi molto anonimi. E l'anonimia non porta valore, non porta identità. Senza identità non andiamo lontani. Quindi c'è sempre stato un momento di ascolto. Bisogna sempre ascoltare ciò che c'è intorno, le persone, i luoghi, le forme, no? Cosa c'è attorno a noi? E ricavarne un alfabeto che poi ci porta a progettare. Bisogna progettare, bisogna progettare con dei disegni, bisogna progettare facendo le cose con queste braccia. E in questo laboratorio abbiamo creato una cacciara mobile, che è una struttura che abbiamo portato in giro per la città di Camerino, includendo chiunque noi trovassimo lungo il percorso. Quindi Camerino, che incredibilmente è una città multiculturale per l'università, che c'erano questi ragazzi del Ghana che studiavano biologia, e abbiamo iniziato a riattivare questi luoghi dell'abbandono. Questi luoghi che i Camerti si sentono disorientati perché sono stati spodestati, no? Da questo colpo di coda che ha avuto la terra molto forte. In realtà se ne devono riappropriare periferie, centri, devono capire che questa è la tendopoli, che devono tornare a essere nei propri luoghi, nonostante il terremoto e tutte le difficoltà, e viverlo. Dunque, un'ultima cosa di cui voglio parlarvi, per esempio il condominio, perché quando io dico condominio, voi immaginerete letti funeste, disagio, no? Quello del piano di sopra, che non sia mai lo vedo. In realtà io che detestavo le letti condominali, poi ho deciso di trasformarle. Quindi nel mio condominio ho iniziato a creare questo rapporto. Abbiamo trasformato il tutto e abbiamo iniziato, io gioco sempre con l'elemento di festa, si deve fare la festa. Bisogna capire chi c'è davanti, in un luogo in cui nessuno si salutava. Quindi questa è la prima festa di Natale che ho organizzato nell'Androne. E ho iniziato a capire che tutto iniziava veramente a prendere una dinamica. Iniziavo a sapere i nomi delle persone, la signora che mi portava le cotolette. E decidiamo con gli studenti di creare il primo manuale di corteggiamento del vicinato. Cioè iniziamo a capire come entrare in rapporto con il vicinato, quelli che tutti i giorni vedi passare davanti a te. Allora queste cose in cui si reattivano garage, torte, sentimenti, crea un senso di appartenenza. Noi dobbiamo sentirci appartenere a qualcosa, a una comunità, sia in maniera individuale che collettiva. E questi per esempio dei concerti da balcone, poi non si capiva più niente a un certo punto. Dopodiché questo è un esercizio che io faccio fare spesso ai miei ragazzi e dico avete un punto A e avete un punto B, tracciate un percorso. Allora tutti si cimentano, cioè chi va direttamente a B, chi fa dei megagiri per arrivare a B, chi sale prima nelle montagne e poi arriva, chi è piccolo così in fondo nell'angolo, chi trova B che torna subito, chi fa tutto un perimetro. E poi c'è il mio studiente indiano che dice Sara, la B è già contenuta nella A. E quindi il percorso è già qui. E questo fu un altro grande momento potente nella mia carriera perché capì come effettivamente abbiamo anche sempre tutto anche dentro di noi ma dobbiamo sentirlo e riattivarci. E quindi bisogna donarsi generosamente a se stessi in premis e quindi agli altri. E come ultima cosa vorrei dedicare questo TED Talk perché appunto secondo me la vita è anche un saper dedicare agli altri a un ragazzo che mi chiese Lorenzo di Siculo che è un ragazzo che soffre di distrofia muscolare, lo è paralizzato completamente sulla sedia a rotelle però gli piace un botto Bob Marley e mi dice Sara io il ritmo lo porto con il battito del cuore. E mi chiese di fare un regalo, mi disse mi fai la copertina del mio secondo libro? Io non sono una grava, non sapevo come farla. e decido andando a Cefchowen di comprare un berretto mega sobrio che avrebbe messo perché lui è un grande amante dei cappelli e di comprare del pigmento indaco perché Cefchowen, la città blu, è piena di questi pigmenti. E tornai a casa a Milano nel mio studio, misi un foglio, disposi il pigmento e iniziai a correre. Ho iniziato a correre per dieci chilometri di fila attivando endorfine, passione e tutto e tornata a casa avrei dipinto questo foglio con il sudore che mi era colato dopo dieci chilometri di corsa. Volevo fare quasi un atto psicosomagico. E poi sarebbe nata da lì la copertina del suo libro e lui tra l'altro mi ringraziò tantissimo e disse Sara bellissima la copertina solo magari dopo qualche spruzzata di deodorante però la apprezzo molto e quindi io quello che vi voglio dire è un po' lasciarvi con l'immagine dello stormo di questo, quando guardate gli stormi che sono tutti questi non capite neanche come fanno a muoversi con quella sinergia nello stare insieme non si scontrano ma sono individuali e allora io vi chiedo sappiatevi donare e sappiate ascoltare gli altri. Grazie.